Buon pomeriggio, ma che buon pomeriggio che ancora neanche a mezzogiorno. Buongiorno a tutti. Primo maggio, siamo tutti qui, c'è Italo Cucci e c'è Umberto Calaiò e poi di là c'è anche Giovanni Di Marco. Buongiorno. Che facciamo oggi ragazzi? Che facciamo oggi? Intanto abbiamo un sacco di ospiti eccezionali, seguiteci. Il vicolo del pallone. Uno degli ultimi parcheggi miei lì è stato quando siamo andati a vincere fuori casa e credo a Benevento. Quindi un'andata fa. Avete capito? Oggi Calaiò ha parcheggiato all'interno del vicolo del pallone, siamo in una botte di ferro. Allora seguiteci perché abbiamo degli ospiti eccezionali, abbiamo le farmaciste, si paride bene assai con un sacco di gente che conoscete e poi abbiamo il campione mondiale della pizza.